Giulia Cogoli Grazie, però aspettate di sentire quello che dico, magari non vi piace e siete costretti a rimangiarvi l'applauso. Volevo dire a Giulia Cogoli, che mi invita spesso, che in questo periodo di turbinosi cambiamenti alcune cose sono costanti. Per esempio, qua si muore sempre di caldo, tutti gli anni. Insomma, è un valore a cui possiamo attaccarci in questo momento di grandi incertezze. Allora, questa chiacchierata si chiama Umani da quando? Ed è un titolo un po' strano, se ci pensate. In realtà questa domanda l'umanità non se l'è posta da secoli, per secoli. È una domanda recente. Per molto tempo si pensava che tutti gli organismi fossero stati creati come rivediamo noi adesso. Ci sono le rose, ci sono i ciclamini, ci sono le balene, ci siamo noi. E si era stimata l'età della Terra, sto parlando del 600 adesso, intorno a 6.000 anni, facendo la genealogia dei patriarchi della Bibbia e arrivando a dire che, grosso modo, tutto era cominciato nel 4004 avanti Cristo. Sono i calcoli di un inglese che si chiamava Lightfoot e che aveva precisato anche la data precisa, in ottobre, non mi ricordo che giorno, e anche l'ora, verso sera. Allora, oggi sappiamo che la storia della vita sulla Terra è molto più lunga. Ieri Marco chiedeva quanto pesa un metro cubo d'acqua una tonnellata. Ecco, ricordiamoci che la vita sulla Terra ha un po' meno di 4 miliardi di anni. Quindi stiamo parlando di un lungo lasso di tempo. Ma non solo per i religiosi, ma anche per gli scienziati del Settecento e dell'Ottocento il problema di diventare umani non si poneva, perché erano creazionisti anche loro. Linneo, il grande naturalista svedese, che nel Settecento comincia a dare cognome e nome, genere e specie, a tutti gli animali e alle piante, noi siamo Homo sapiens, Canis lupus, e Linneo era creazionista. Linneo pensava che tutte queste forme di vita si fossero tramandate identiche dal momento della creazione fino ad oggi. E quindi il compito del naturalista era un compito molto vasto. Ci sono milioni di specie, ma tutto sommato semplice. Si trattava di riconoscere la specie a cui ogni individuo, ogni pianta, ogni animale appartiene, e poi metterci il cartellino giusto. Tutto questo va in crisi con Charles Darwin. Anzi, va in crisi un po' prima con Lamarck. E Darwin su questo è pienamente d'accordo. Ma Darwin incomincia a ragionare sul concetto di specie. E si spaventa anche per le cose che gli vengono in mente. Darwin ha sempre avuto molto paura del giudizio degli altri, del giudizio sociale. E in una sua lettera, che adesso vi leggerò in parte, racconta il suo punto di vista. La scrive un botanico, che si chiamava Jennings, nell'ottobre del 1944. Darwin ha 35 anni. Cioè l'età in cui si è ambiziosi, si fanno progetti per il futuro. E Darwin dice, ho continuato tenacemente a leggere e a raccogliere dati sulla variabilità degli animali domestici e delle piante. E sulla questione di cosa siano le specie. La conclusione generale a cui sono giunto, lentamente, partendo dalla convinzione opposta, è che le specie sono mutevoli, cioè non sono fisse, cambiano nel corso del tempo, e che specie simili discendono insieme da antenati comuni. Quindi noi siamo simili agli scimpanze, oggi siamo due specie diverse, ma abbiamo degli antenati comuni. Prima eravamo la stessa cosa. Attenzione a come finisce questo brano, perché è interessante. Sono consapevole di quanto mi esponga al biasimo per tale conclusione, ma l'ho raggiunta, almeno, onestamente e deliberatamente. Non pubblicherò su questo argomento ancora per parecchi anni. Cioè Darwin è così consapevole di quello che succederà, appena si comincia a dire, guardate che noi uomini siamo una specie come tante altre, abbiamo avuto origine da antenati non umani che decide, a 35 anni, di non parlarne affatto. Ed effettivamente terrà il becco chiuso per parecchio tempo. Nella sua autobiografia, poi, nell'87, racconta meglio questa storia. E dice, quando mi sono convinto che le specie fossero prodotti mutevoli, cioè che non siamo sempre identici nel corso della nostra storia, non ho potuto evitare di credere che la specie umana fosse sottoposta alla stessa legge. Non può evitare di crederlo, ma non ne parla nei suoi libri. Evita ancora l'argomento, perché sa che la reazione della società inglese a cui apparteneva sarebbe stata una reazione molto negativa. Ian Tattersall, il direttore per molti anni del Museo di Storia Naturale di New York, una sera davanti a una birra, mi dice, ma sai, in Inghilterra erano ancora scioccati dalla rivoluzione francese. E quindi qualunque idea radicale provocava un sommovimento sociale. E la teoria dell'evoluzione sembrava una bomba pronta ad esplodere per far saltare per aria tutte le convenzioni. Fatto sta che, fosse vero o non fosse vero, Darwin si muove con grande prudenza. Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio che mette in moto questo suo ragionamento degli interrogativi. Perché se oggi siamo una cosa diversa dagli scimpanze, ma discendiamo da antenati comuni, ci sarà stato un momento, magari un momento in tempi evoluzionistici, cioè millenni, durante i quali si è verificato questa separazione. Ecco, quando è stato questo momento? Bisogna dire che le teorie di Darwin hanno avuto subito un enorme successo tra gli scienziati, perché permettevano di collocare in un quadro organico un sacco di osservazioni che altrimenti non si spiegavano. L'elemento fondamentale era la scoperta dei fossili. Nel Settecento e poi nell'Ottocento si scoprono i fossili, i geologi trovano modo di dare loro una data, e questi fossili hanno due caratteristiche. Sono abbastanza simili agli organismi attuali da permettere di stabilire delle relazioni, ma abbastanza diversi da testimoniare che in passato non c'erano gli stessi animali e le stesse piante che ci sono oggi. Il mammut assomiglia chiaramente a un elefante, ma non è un elefante. E quindi i fossili dimostrano che c'è stata l'evoluzione. L'evoluzione è un fatto. Se qualcuno vi dice che l'evoluzione è una teoria, sta barando. L'evoluzione è un fatto documentato dai fossili. Poi ci sono molte teorie che spiegano, a volte in conflitto fra di loro, come e perché è avvenuta l'evoluzione. Quindi per molte piante molti animali si poteva dimostrare con i fossili che si erano evolute, ma mancavano i fossili umani. Non c'era la prova che l'uomo si fosse evoluta allo stesso modo. La base dei ragionamenti di Darwin e dei suoi era il confronto. Gli scheletri, dei gorilla, degli scimpanzei e umani hanno tantissimo in comune, evidentemente, ma non c'erano i dati che permettessero di dire che era stato così anche in passato. In realtà, oggi i fossili li abbiamo e il primo che è venuto fuori ha una storia interessante e se permettete ve la racconto. Perché, appunto, i darwiniani aspettavano di trovare, prima o poi, scavando da qualche parte, le tracce di un vecchio uomo che si potesse riconoscere come antenato degli uomini di adesso. E questo vecchio uomo viene ritrovato per la prima volta nella Valle dell'Uomo Nuovo. Perché Neanderthal vuol dire la Valle dell'Uomo Nuovo. È un caso, però. Però è andata così. Degli operai che stavano scavando in una cava alla ricerca di Ghiaia trovano una calotta cranica molto schiacciata e alcune ossa. Capiscono che è una cosa strana. Non sono semplicemente le ossa di qualcuno che è andato a morire lì. E allora le danno al maestro del paese che si chiamava Fullroth. Fullroth è una persona seria. Si rende conto di non avere le conoscenze per riuscire a capire cosa siano queste ossa e le passa allora all'università più vicina che era l'università di Bonn dove lavorava uno zoologo molto entusiasta darwiniano che si chiamava Schaffhausen. E Schaffhausen vede le ossa e dice ecco, finalmente abbiamo trovato le evidenze di una rozza e barbara razza umana. Oggi non useremmo lo stesso linguaggio ma il messaggio è chiaro. Solo che quando Schaffhausen scrive queste cose entrano in campo i pezzi grossi e Schaffhausen non è un pezzo grosso. Il pezzo più grosso che entra in azione è il più importante scienziato tedesco dell'epoca. si chiamava Firkov ed è un padre della patologia una figura di grande rilievo nella storia della scienza. Firkov ha goduto di un momento di celebrità durante la pandemia quando il filosofo francese Bernard Henri Levy l'ha citato a Vandera dicendo che una epidemia è un fenomeno sociale con dei risvolti medici. Una sciocchezza naturalmente. Perché Firkov diceva queste cose? Perché Firkov potremmo dire oggi era ingenuale la mente di sinistra. Era uno che credeva che vincolare l'uomo alle sue componenti naturali biologiche significasse negare la sua capacità di riscattarsi socialmente. Per cui Firkov non credeva nemmeno nei batteri. Diceva portate l'acqua nei quartieri più poveri e vedrete che la mortalità infantile si abbassa. Il che è vero ma perché con l'acqua si scacciano i batteri. Quando arriva il pezzo il cranio di Neandertal nelle mani di Firkov Firkov dice assolutamente non può essere un uomo antico dice potrebbe essere un cretino all'epoca cretino idiota imbecille erano corrispondevano a diagnosi psichiatriche precise potrebbe essere sapete che i tedeschi sono bravi a trovare razze inferiori potrebbe essere un polacco bastava andare a vedere in Polonia non era tanto lontano e un suo collaboratore Meyer dice probabilmente è un cosacco rachitico morto durante le campagne napoleoniche e è andato a morire nella grotta e questi dubbi di Firkov circolano per cui c'è un sacco di gente scienziati seri che prendono in blocco la teoria evolutiva di Darwin l'accettano ma pensano che noi umani abbiamo avuto un destino diverso non abbiamo dovuto fare la fatica di evolverci anche noi e una traccia di questo dibattito so che sto per dirvi una cosa sconcertante la si trova in un libro molto divertente di Thomas Mann uno dice Thomas Mann divertente no no ha scritto anche delle cose divertenti e questo suo libro l'ultimo che ha scritto in compiuto si chiama Le confessioni del cavaliere d'industria Thomas Krul Felix Krul Felix Krul è un arrampicatore sociale che a un certo punto a vent'anni scambia la propria identità con quella di un marchese che vuole restare a Parigi dove si è innamorato di una cocotte e mentre viaggia per Lisbona incontra in treno il direttore del museo di storia naturale di Lisbona e vi leggo il loro dialogo dice Krul ma l'uomo si sente sempre dire deriva dalla scimmia e gli risponde Kukuk con le parole di Firkov caro marchese diciamo piuttosto esso deriva dalla natura e inessa alle sue radici dalla somiglianza della sua anatomia con quella delle scimmie superiori non dovremmo lasciarci eccessivamente suggestionare gli occhietti azzurri muniti di ciglia e la pelle del porco hanno ben più elementi umani di qualunque scimpanze vi sono state non una ma tre generazioni spontanee il sorgere dell'essere dal nulla il risveglio della vita dall'essere e la nascita dell'uomo cioè Kukuk si inventa tre cose incomprensibili ma tre generazioni spontanee pur di non dire che c'è un rapporto fra noi e gli scimpanze a questo punto però in Inghilterra hanno cominciato a circolare calchi e disegni del cranio dell'uomo di Neandertal e finiscono in mano a un anatomista che si chiamava Bask il quale si rende conto che tempo prima a Gibilterra era stato rinvenuto un cranio dello stesso tipo ma non era stato compreso ed era finito nei magazzini del British Museum e allora confronta i due crani e poi scrive una delle frasi sarcastiche più belle della storia della scienza che io so a memoria e che adesso ripeterò a vostro beneficio perché Bask dice anche il professor Meyer farebbe fatica a sostenere che un secondo cosacco rachitico delle campagne napoleoniche sia andato a morire nella penisola iberica ecco con questo non è che finisca la storia anche perché Neandertal non è un nostro antenato Neandertal non è quello da cui deriviamo quindi la storia è ben più complessa ma è appunto qui che si fa complessa anche la questione che vogliamo affrontare perché avete presente quelle immagini ci sono anche sulle magliette in cui c'è un antenato scimmiesco che si alza sempre più in piedi fino a diventare noi se fosse andata così si potrebbe mettere un dito a un certo punto di questa camminata dicendo ecco da qui in poi siamo umani ma in realtà Neandertal e tantissimi altri fossili rinvenuti dopo dimostrano che non è stato un fenomeno lineare sono comparse tantissime forme umane le chiamiamo Australopithecus le chiamiamo Paranthropus le chiamiamo in tanti modi diversi sono comparse varie forme di uomo e tutte tranne una si sono estinte quindi andare a capire da dove comincia l'umanità non è facile in effetti Charles Darwin aveva detto è una domanda poco interessante perché non dipende dalla caratteristiche anatomiche o fisiologiche dell'uomo ma dal nostro concetto soggettivo di che cosa sia un essere umano giusto teniamolo presente però proviamoci sempre secondo Darwin e secondo anche molti che continuano a lavorare sono tre le caratteristiche peculiari dell'essere umano prima di tutto la stazione eretta noi ci siamo abituati sembra una cosa da niente ma è estremamente insolita nel mondo animale gli orsi gli scimpanze ogni tanto fanno due passi sugli arti inferiori ma poi si appoggiano su quelli anteriori è un sistema insolito di procedere perché è irrazionale se vedete lo scheletro di un cane o di un cavallo cioè una colonna vertebrale orizzontale sotto cui stanno razionalmente appesi tutti gli organi funziona se dovessi disegnare un animale lo farei quadrupede quando noi ci tiriamo in piedi si scompensa tutto quanto la colonna vertebrale nel corso dell'evoluzione si inclina per reggere il peso degli organi ma tutti quanti specie a questi livelli di umidità soffriamo di mal di schiena e non è il problema peggiore perché per reggere la stazione retta per permettere l'attacco dei potenti glutei che possediamo abbiamo il lato B più bello di tutti i primati se volete vantarvi di qualcosa si restringe il bacino e quindi il parto per le femmine umane è molto più complicato che per le femmine di gorilla di scimpanze e sempre Charles Darwin ci ha fatto capire che quando nell'evoluzione si afferma qualcosa di poco razionale per esempio la stazione retta è perché in cambio abbiamo avuto qualcosa di meglio e questo qualcosa di meglio può essere legata alle altre due caratteristiche tipiche dell'umanità un cervello sovradimensionato e la facoltà del linguaggio queste sono le tre cose che abbiamo secondo Darwin che non ripeto non disponeva di fossili disponeva soltanto di un cervello favoloso queste tre caratteristiche si erano evolute insieme oggi invece lo studio dei fossili ci fa capire che quella apparentemente meno nobile stare in piedi è la prima che si è evoluta ed è quella che ha messo in moto anche i cambiamenti che hanno portato alle altre perché possiamo dirlo perché tre milioni e qualche centinaio di migliaia di anni fa sono successe delle cose estremamente improbabili tutte insieme in Tanzania in un sito che si chiama Lettoli c'è stata una eruzione vulcanica che ha fatto depositare delle ceneri su queste ceneri sono transitati tre individui dopodiché lasciando le loro impronte dopodiché è piovuto le ceneri si sono raffreddate e siccome sono vulcaniche riusciamo a dar loro una data con molta precisione questi individui che ci sono passati sopra camminavano su due gambe c'erano delle impronte più grandi probabilmente un maschio più piccole probabilmente una femmina dopo un poco ci si è resi conto che dentro alle impronte più grandi ce ne erano di piccolissime era un bambino che metteva i piedi dove li avevano messi i genitori per evitare di scottarsi tre milioni e mezzo d'anni fa quando i fossili ci dicono che avevamo ancora un cervellino piccolo così mezzo litro oggi è quasi un litro e mezzo c'era qualcuno che camminava su due gambe per inciso poi mi fate un segnale se sbrodolo Giulia per inciso mi viene in mente adesso ma questa è carina c'è stato qualcuno che ha sostenuto che queste creature sono australopitechi li chiamiamo australopitechi lussi per chi ha familiarità con queste cose dimostravano che la famiglia naturale è costituita dal papà dalla mamma e da un bambino si dicono sì è vero allora voi sapete che molto spesso quando uno dice una scemenza è difficile dimostrargli subito che è una scemenza ma qui invece è andata così perché poco più avanti un altro gruppo italiano diretto da Giorgio Manzi sempre sulla stessa pista di cenere ha trovato le impronte di uno con i piedi grandi tre con i piedi intermedi e uno con i piedi piccolissimi quindi era probabilmente un maschio con tre femmine col che il dibattito sulla famiglia naturale viene rimandato nelle sedi più giuste insomma e si smette di chiacchierare di cose che non c'entrano per niente allora cosa vuol dire diventare umani possiamo decidere che dal momento in cui ci siamo messi a camminare su due gambe quindi almeno tre milioni di anni fa eravamo umani oppure si può scegliere un altro momento di questa storia bene c'è chi pretende di rispondere a queste domande sono state scritte delle frasi tipo la storia comincia quando l'uomo inventa gli dèi e terminerà quando l'uomo diventerà Dio ecco sono profondamente contrario a queste semplificazioni che vendono da un autore di bestseller per cui forse sono invidioso delle copie di libro che ha venduto costui perché queste frasi che colpiscono perché sono strutturate bene non vogliono dire niente cioè la domanda è quali sono i cambiamenti davvero importanti quando sono avvenuti e perché sono avvenuti questa storia degli dèi non ha nulla a che vedere con queste domande per fortuna c'è anche della gente che ci lavora molto seriamente a San Diego negli Stati Uniti in California c'è un centro che si chiama CARTA centro per la ricerca accademica e il training in antropogenesi che si occupa appunto di capire in che cosa siamo simili in che cosa siamo diversi dai nostri parenti più prossimi e un bravo ricercatore del CARTA si chiama Ajit Varkhi ha pubblicato un articolo in cui elenca 250 cose che noi facciamo o siamo anche a livello di metabolismo e che invece gli scimpanze non sono o non fanno ce n'è per tutte le lettere dell'alfabeto A agricoltura B bungee jumping C ceramica fino alla X raggi X yoga Y zootecnia Z detto questo è difficile sostenere che nel processo evolutivo noi siamo diventati umani quando abbiamo attaccato a fare la zootecnia anzi possiamo dimostrare che non è andata così e allora come ci possiamo collocare in questa storia così complicata mi sa che dovrò fare un passo indietro ai lavori di uno psicologo sperimentale tedesco in realtà veniva dalle zone che oggi sono Estonia si chiamava Wolfgang Köhler e ai primi del novecento diventa il direttore della stazione zoologica prussiana di Tenerife alle Canarie lo scopo di Köhler è stabilire i limiti dell'intelligenza dello scimpanzè quindi ha un gruppo di scimpanzè a cui fa fare dei test e l'esperimento è praticamente sempre lo stesso ci sono delle banane in alto che lo scimpanzè non riesce a raggiungere e gli vengono messi a disposizione vari sistemi per colpire le banane e mangiarsele dopo poco viene fuori che c'è uno meglio degli altri si chiama Zultan Zultano Zultan è capace ci sono le fotografie su internet se andate a vedere di usare un bastone per tirare giù le banane semplice ma anche se il bastone è troppo corto di inserire un bastone in un altro e farsi un bastone più lungo ed è anche capace se non gli date il bastone fa delle pile di casse e si arrampica in cima alle pile di casse se invece di dargli il bastone gli date un alberello lui con le mani spezza i rametti fino a farsi un bastone dov'è che non ci arriva Zultan qual è quello che Danilo Mainardi grande etologo ha battezzato il limite di Zultan se i rametti dell'albero sono troppo grossi e non si riesce a spezzarli con le mani e se gli si dà un sasso Zultan non capisce che col sasso può spaccare i rametti quindi anche lo scimpanzé più bravo di tutti non riesce a usare un attrezzo per costruirsi un altro attrezzo invece noi a partire da due milioni e duecentomila anni fa abbiamo superato il limite di Zultan due milioni e duecentomila anni fa in Africa c'era qualcuno che scheggiava le pietre per mezzo di altre pietre la cultura olduwaiana la attribuiamo a una forma umana che chiamiamo Homo habilis l'uomo abile e convenzionalmente da quel momento in poi facciamo partire il genere Homo naturalmente è una scelta in qualche modo arbitraria ha ragione Darwin ha ragione Darwin e in realtà abbiamo tutta una gamma di possibili scelte possiamo dire siamo diventati umani quando ci siamo alzati su due gambe possiamo dire siamo diventati umani questo è 3 milioni e passa di anni fa possiamo dire che siamo diventati umani a partire da Homo habilis 2 milioni e 200 mila anni fa oppure qualcuno può dire ma no finché non abbiamo imparato a controllare il fuoco non eravamo veramente umani e quindi anche in sintonia con le cose gastronomiche che si dicevano che si dicevano ieri su questo palco stabilire quando abbiamo usato il fuoco per la prima volta è difficile perché è difficile per gli archeologi discriminare tra incendi naturali e uso deliberato del fuoco però non ci sbagliamo di tanto se diciamo che questa storia è cominciata 700 mila anni fa oppure uno può legittimamente dire ma no io considero che sia nata l'umanità che siamo diventati umani quando compare della gente come noi e allora arriviamo a 190 mila anni fa in Africa orientale in Etiopia Homo kibish non credete a quelli che vi dicono che in Marocco 300 mila anni fa c'era Homo sapiens anche gli articoli che vengono citati non dicono questa cosa c'è tutto un vabbè lasciamo perdere non voglio complicarvi complicarvi le idee comunque è così oggi abbiamo una vasta gamma di scelte non sarò io a dirvi che cosa è umano c'è però la possibilità di studiare molto meglio le nostre caratteristiche perché oggi abbiamo dei potenti strumenti di indagire del DNA negli ultimi vent'anni la genetica ha fatto dei formidabili passi avanti quella che era una scienza che per molti anni si basava su pochi dati perché era difficile studiare il DNA e su ragionamenti anche molto sofisticati d'improvviso si è trovata in mezzo a una massa sterminata di dati i dati sui genomi cosa vuol dire genoma genoma è l'insieme del DNA delle nostre cellule e ogni nostra cellula ha una copia di questo DNA metà viene dalla mamma metà viene dal papà e tutte le nostre cellule hanno lo stesso genoma lo stesso DNA questo DNA è il libretto di istruzione delle nostre cellule cioè contiene le informazioni attraverso cui la cellula uovo della mamma fecondata dallo spermatozoo del papà si moltiplica in maniera ordinata fino a fare i 37 mila miliardi di cellule di cui ciascuno di noi è costituito naturalmente non si moltiplica a caso ci vuole la testa ci vuole l'estremità caudale bisogna sviluppare i vari organi al posto giusto quindi queste informazioni permettono alla cellula di moltiplicarsi in modo ordinato durante lo sviluppo e di mantenerci in funzione finché a un certo punto non funziona più niente e moriamo questa metafora del libretto di istruzioni funziona per tanti motivi per esempio il DNA è presente in forma di lunghe catene nella cellula di molecole e queste molecole sono soltanto quattro e le indichiamo con le lettere dell'alfabeto A, C, T e G per cui noi conosciamo l'alfabeto del DNA quattro lettere non ventuno come l'italiano soltanto quattro le parole del DNA sono scritte con queste lettere e le parole del DNA le conosciamo pure perché sono i geni e ogni gene produce una o più proteine e noi siamo fatti di proteine e di acqua semplificando tutto in maniera un po' brutale e quindi conosciamo l'alfabeto del DNA conosciamo il vocabolario non conosciamo la sintassi e questo è il problema conosciamo il vocabolario significa che noi studiando i geni uno alla volta possiamo predire l'insorgenza di certe malattie e da qualche tempo in qua almeno teoricamente correggerle la distrofia muscolare di Duchenne è una malattia che dipende dal funzionamento errato di un solo gene e quindi andando a guardare dentro a quel gene nell'embrione noi possiamo dire alla madre se il figlio avrà o non avrà questa gravissima malattia vale per la fibrosi cistica vale per il daltonismo sono malattie importanti ma non sono quelle di cui muore tanta gente la gente muore di diabete muore di cancro muore di malattie cardiocircolatorie muore per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson in cui degenera il sistema nervoso sarebbe bello riuscire a correggere tutte queste malattie perché non riusciamo a farlo perché non dipendono da un solo gene ma dipendono da tanti geni e tanti fattori ambientali e quindi anche solo andare a fare la lista dei geni che ci fanno venire un certo tipo di cancro finora si è rivelata una missione impossibile quindi questo è il futuro orizzonte della ricerca in genetica capire la sintassi del DNA però intanto lo riusciamo a leggere tutto questo testo ed è un testo lunghissimo sono 3 miliardi e mezzo sudate 6 miliardi e mezzo di lettere all'interno di ciascuna nostra cellula vedo persone preoccupate non vi interrogo poi su questi numeri quindi si possono dimenticare appena li avete sentiti però 6 miliardi e mezzo giusto per avere un'idea secondo un mio calcolo un po' grossolano significa che i promessi sposi sono costituiti da un milione e mezzo di caratteri quindi ogni vostra cellula ha un libretto di istruzioni che è l'equivalente di 4000 volumi grossi come i promessi sposi in cui la cellula va a trovare la riga giusta nel giro di frazioni di secondo anche capire come faccia la cellula a fare questa cosa siamo ancora siamo ancora lontani fatto sta che questo testo sterminato noi lo leggiamo riusciamo a leggerlo in maniera quasi integrale e ormai costa poco la prima lettura di un genoma ha richiesto 13 anni e 2300 ricercatori ed è costata 2 miliardi di dollari meno del MOSE mi faceva notare Marco Aime in un consorzio internazionale oggi si riesce a fare tutto quanto in pochi giorni con 1000 euro e con un tecnico che fa funzionare la macchina quindi questo ci permette di chiederci in che cosa siamo speciali allora visto che siamo speciali visto che nessuna specie animale è in grado di fare quello che stiamo facendo in questo momento uno parla gli altri ascoltano e l'idea di partenza era dire siccome noi sappiamo fare più cose degli altri andiamo a vedere il genoma dello scimpanzè e tutto quello che noi abbiamo in più rispetto allo scimpanzè sarà la base delle nostre maggiori capacità sembra un ragionamento logico ma vi dico subito che non siamo andati molto lontani una cosa che si è vista confrontando il DNA nostro dello scimpanzè e di altre grandi scimmie è che ci sono dei geni che effettivamente hanno delle funzioni particolari e in particolare si è trovata una famiglia inglese una famiglia umana che viene indicata con le iniziali per questione di privacy si chiama famiglia KE nella quale tutti quanti i membri che avevano una grave dislessia quindi incapacità di articolare un certo discorso avevano un gene sbagliato per così dire che si chiama FOXP2 e FOXP2 è diventato a un certo punto il gene del linguaggio allora io quando sento dire il gene di qualcosa mi innervosisco perché quasi sempre non c'è un gene ma ce ne sono tanti e bisogna capirli tutti insieme fatto sta che in questa famiglia nel momento in cui veniva chiesto ai membri di dire una frase anche abbastanza semplice e gli si faceva una risonanza magnetica succedeva una cosa strana mentre se vi chiedono di pronunciare la frase oggi è sabato e siamo a Pistoia si attiva una regione particolare del cervello che si chiama la regione di Broca dove c'è il linguaggio ai membri di queste famiglie si attivavano tantissime regioni nel cervello che non servivano a niente e questo è quello che succede durante le crisi di panico il vostro cervello che non sa cosa fare chiede aiuto dappertutto manda segnali dappertutto che naturalmente non servono a risolvere il problema se per esempio vi trovate a parlare una lingua non vostra a uno e questo qua vi guarda con la faccia sbigottita ecco che succede esattamente la stessa cosa voi cercate aiuto da qualche parte nel cervello e parlate sempre peggio insomma è capitato a chiunque si sia trovato a parlare una lingua diversa dalla sua bene si è visto che questo gene Fox P2 nell'uomo ha due caratteristiche che non troviamo in nessun altro dei mammiferi che abbiamo studiato queste due caratteristiche quindi si sono accumulate in tempi recenti da quando ci siamo separati dagli scimpanze e se ce ne abbiamo solo noi probabilmente vuol dire qualcosa ma in realtà dopo la prima ondata di entusiasmo abbiamo scoperto il gene del linguaggio così si è capito in realtà che per parlare servono tantissime cose servono una laringe ben configurata una laringe come la nostra che non è proprio la più razionale noi rischiamo di soffocarci molto più degli scimpanze quando beviamo quindi ancora una volta darwinianamente se si è evoluta questa laringe è perché il rischio del soffocamento è più che compensato dalla facoltà del linguaggio che ci ha dato delle enormi capacità sociali e Neandertal ce l'aveva come noi quindi Neandertal era tecnicamente in grado di fare le cose che sappiamo fare noi mi sono interrotto scusate poi ci vuole oltre alla laringe ci vuole un cervello che sappia coordinare il funzionamento delle varie parti dei polmoni che mandino fuori l'area in un certo modo e naturalmente anche qualcosa da dire perché è meglio quando si apre bocca avere qualcosa da dire nelle ultime settimane nelle ultime settimane sto parlando della fine di aprile sono usciti sulla rivista Science una serie di studi che fanno pensare che magari noi siamo così speciali non perché abbiamo qualcosa in più ma perché abbiamo qualcosa in meno degli altri piccolo e bello forse questi studi su Science sono il risultato di uno sforzo massiccio perché qualcuno giustamente ha pensato che ormai dobbiamo fare dei confronti su larghissima scala ho detto prima che un genoma significa 6 miliardi e mezzo di lettere quindi un testo lunghissimo andare a vedere che cosa c'è dentro è già lunga confrontarlo con un altro genoma è ancora più lunga confrontarlo con 250 altri DNA di altre specie di vertebrati è un'operazione gigantesca che richiede sistemi di calcolo sofisticatissimi che richiede una grande fiducia nei dati e quindi un'altissima qualità dei dati prodotti quindi ci sono voluti molti anni ci sono voluti molti anni ma alla fine i risultati ci sono stati e sul sito dell'università di Yale che è tra quelle che hanno diretto questo studio è uscito un lancio che dice informazione mancante dal genoma umano può essere quello che ci ha resi umani questa informazione mancante dal genoma umano siamo riusciti a individuarla a riconoscerla proprio per la vastità dei confronti che sono stati fatti si è visto ricordiamoci 6 miliardi e mezzo la dimensione di tutto il testo ci sono 10.000 piccole differenze quindi una percentuale minuscola frammentate qua e là due o tre lettere mancano qua mancano là ma la cosa interessante è che questi pezzi che mancano al genoma umano mancano solo a noi se ci andiamo a confrontare con i scimpanzè naturalmente con i gorilla con i topi con i coccodrilli addirittura con i tritoni addirittura con le rane cioè tutte queste forme di vita hanno questi pezzettini di DNA identici gli unici a cui mancano siamo noi e che cosa fanno questi pezzettini è difficile dirlo perché gli esperimenti sono complessi ma nei primi esperimenti che sono stati fatti si è visto che se mettete dentro a delle cellule umane questi pezzi che normalmente non ci sono queste cellule specie se sono cellule nervose si moltiplicano molto più lentamente quindi può darsi che aver perso per caso dei pezzettini qua e là del DNA ci abbia dato una delle spinte non necessariamente la sola una delle spinte che ci hanno permesso di utilizzare meglio i geni che avevamo già geni che abbiamo in comune con lo scimpanzè siamo identici al 98,5% con gli scimpanzè forse dovevo dirlo prima questa cosa quindi le differenze sono in una zona molto limitata del genoma ma questi piccoli pezzi che abbiamo perso forse hanno permesso al nostro tessuto nervoso di svilupparsi più rapidamente che in altre in altre specie tutto soprattutto è anche un messaggio simpatico da lanciare piccolo e bello cioè non abbiamo fatto dei grandi passi avanti nell'evoluzione forse perché abbiamo acquisito qualcosa di strano che gli altri non hanno no no anzi se volete saperlo i geni che noi abbiamo gli scimpanzè non hanno sono soprattutto dei geni che funzionano non nel cervello ma nei testicoli non posso farci niente devo darvi questa informazione il che ha senso perché quando due specie si separano sorge una barriera riproduttiva e questa barriera riproduttiva deve funzionare a livello di organi riproduttivi quindi semplicemente siamo parenti troppo stretti degli scimpanzè per aver sviluppato dei geni diversi ma a livello di testicoli lì insomma ragazzi o noi o loro non ci sono non ci sono mediazioni per il resto forse questa perdita di piccoli tratti di DNA ci ha dato una capacità di utilizzare gli stessi geni degli scimpanzè in maniera più avanzata e quindi di produrre questi cervelli di cui siamo così fieri tranne quando non fanno degli errori madornali mi fermo qui ecco sperando di non avervi dato l'idea che abbiamo capito tutto no siamo molto lontani da capire io vi ringrazio ma quando mi becco questi applausi la cosa mi imbarazza perché temo di aver detto qualche cosa di estremamente demagogico che suscita gli spiriti più più come dire più ferini più belluini così spero insomma di non aver detto niente di speciale di straordinario no ecco una cosa che insomma qui tengo è sottolineare come la scienza si stia orientando e indubbiamente ne sappiamo molto ma molto di più di quanto noi sapessimo anche solo vent'anni fa il mio mestiere è radicalmente cambiato da allora anzi fosse tempo che io mi tolga di mezzo e che qualcun altro prosegua con più freschezza con più idee però ogni volta che si fa un passo avanti nella ricerca scientifica si riesce a rispondere magari a una domanda ma se ne aprono altre tre e quindi il cammino è ancora è ancora molto molto lungo e poi insomma siamo in un festival di antropologia ci sono anche gli antropologi culturali quindi io vorrei mandare anche questo messaggio noi non pensiamo affatto che tutte le risposte alle domande sull'uomo stiano nei geni noi pensiamo solo che nei geni si trovano risposte meno ambigue perché è possibile lavorare in maniera quantitativa mentre su altre caratteristiche c'è una componente di soggettività quella che sottolineava Darwin il nostro punto di vista lui assomiglia a lui questo comportamento assomiglia a questo che in questi campi è ineliminabile e invece nel nostro campo è un po' ridotto vi ringrazio per la vostra attenzione Grazie.